Via libera la quarta investitura di Angela Merkel come cancelliera. Dopo il sì della base socialdemocratica alla grande coalizione, il capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier ha inviato la proposta al Bundestag che dovrebbe esprimersi con voto segreto la prossima settimana. La fase di paralisi politica della potenza europea, durata più di cinque mesi, sembra vicina ad una fine e Merkel ha promesso che il Paese tornerà immediatamente a far sentire la sua voce. «E' importante che si cominci a lavorare. Spero che verrò rieletta cancelliera», ha dichiarato. «Farò di tutto perché questo governo lavori bene per il popolo tedesco». Se non è ancora nota, la squadra ministeriale dei socialdemocratici è pronta quella praticamente tutta al maschile, e non senza polemiche per questo, della CSU, con il leader, Horst Seehofer, in arrivo al Ministero dell'Interno. L'unica donna, Dorothebya, dovrebbe ottenere un incarico governativo che rappresenta una novità, con focus sulla digitalizzazione. L'unica donna, Dorothebya, dovrebbe ottenere un incarico governativo che rappresenta una novità,